Più del 70% degli over 80 ha ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer presso il centro covid dell'ospedale Ruggi Dragona di Salerno a cui si aggiungono anche altre categorie. Prime somministrazioni ai pazienti risultati positivi al covid, primi vaccini anche ai pazienti fragili che da venerdì entreranno a pieno regime nel programma vaccinale del centro covid dell'ospedale di Salerno. A dichiararlo è il dottor Francesco De Caro responsabile del centro vaccinale dell'ospedale che ai nostri microfoni conferma la tenuta di un buon ritmo di somministrazioni in arrivo a una doppia quantità di Pfizer rispetto alle forniture settimanali oltre che le forniture di AstraZeneca. Nessuna panchina libera invece per i Ruggi come indicato poco meno di una settimana fa dal commissario straordinario all'emergenza covid il generale Francesco Paolo Figliuolo di vaccinare chiunque passi con dosi avanzate. Rare le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata che in ogni caso sono utilizzate sempre a favore di soggetti già inseriti nelle categorie programmate e prenotate. Solo un anticipo di convocazione per la somministrazione e quanto chiarisce ai nostri microfoni il dottore De Caro. Sì stiamo completando gli ultraottantenni e ci sono altre categorie. Chi non è riuscito ad essere vaccinato nelle giornate scorse fra personale sanitario qualche coda stiamo facendo la prima dose a chi è stato positivo e tra scorsi tre mesi stiamo facendo l'unica dose necessaria per ottenere l'immunità come previsto dal decreto ministeriale e quindi abbiamo messo insieme un po' di persone siccome gli ultraottantenni richiedono di un tempo maggiore noi insieme a loro facciamo arrivare qualcuno comunque nelle categorie che devono essere vaccinate insieme a loro. Il caso AstraZeneca ha un po' rallentato la campagna vaccinale? A noi non ci ha rallentato perché abbiamo interrotto la somministrazione di AstraZeneca però il calendario li abbiamo riprogrammati in tempo reale aumentando la quota di ultraottantenni da vaccinare sostanzialmente e riempiendo quei voti che si erano creati improvvisamente programmando su Pfizer chiamando altro personale da vaccinare sempre con Pfizer. Intanto oggi però riprendiamo con AstraZeneca perché noi come azienda ospedaliera è stata affidata la vaccinazione del personale dell'Università di Salerno. Tutti dicono che bisogna fare in fretta e diffondere maggiormente l'inoculazione del vaccino ma ovviamente ciò non è possibile se non ci sono le fiale sufficienti. Oggi però è previsto proprio un arrivo consistente di Pfizer? Sì anche da noi arriverà una quantità doppia di vaccini Pfizer rispetto al contingente che ci arriva settimanalmente oltre che alla consegna di AstraZeneca che è avvenuto nella giornata di ieri per completare il personale dell'Università, quindi si sta facendo di tutto a livello centrale per far arrivare quanti più vaccini e noi ci stiamo organizzando per vaccinare di più tant'è che inizieremo a vaccinare i fragili entro questa settimana, vaccineremo i nostri dializzati, i trapiantati, tutte le persone che ha in carico l'azienda per fragilità particolare, cardiologiche, metaboliche, neoplastiche e facciamo un calendario e raddoppieremo i turni vaccinali proprio per completare quanto prima queste persone con il vaccino Pfizer. In tanti hanno accolto l'invito lanciato dal generale Figliuolo di mettersi in panchina, si dice così, e qualora restasse una dose di potersi vaccinare. È accaduto anche questo qui a Ruggi? Allora noi le panchine le teniamo già organizzate nel senso che riusciamo a chiamare le persone del giorno successivo anticipandone qualcuna se dovesse essere necessario. Qualche rarissima sera è capitata ma abbiamo già un elenco organizzato quindi il personale comunque avende diritto personale sanitario o altro che quella famosa prima dose che dicevamo prima. Quindi nessun paziente comune che si presenta qui e chiede che qualora restasse una dose di poter essere vaccinato? Abbiamo gli elenchi già predisposti un po' come adesso stanno organizzando in Toscano, noi lo stiamo facendo al primo giorno. Noi per ogni sera abbiamo un elenco almeno di dieci persone che chiamiamo, ci hanno dato la disponibilità per essere chiamati e li convochiamo alla necessità. Questo l'abbiamo fatto al primo giorno perché non abbiamo mai sprecato le dosi perché questo sistema noi lo avevamo già adottato.